Allora ragazzi, visto come l'avete chiesto in tanti, sinceramente mi ha fatto tanto piacere, vi dico anche io il mio pensiero sul nuovo acquisto dell'Inter, ovvero Akan Cialanoglu. Incredibile, non me lo sarei mai aspettato di dire queste parole, visto che di solito noi non compriamo giocatori al Milan, ma è sempre il Milan che ci compra i giocatori a noi, Ronaldo, chi se lo ricorda, vabbè, a parte queste piccole cavolate. Vi dico il mio pensiero su Akan Cialanoglu, perché sinceramente è l'acquisto che nessuno di noi interisti si aspettava, nessuno. Ho visto tanti pareri discordanti, ho visto tanti insulti verso questo acquisto, sinceramente ragazzi, io tutta questa tragedia non la vedo, proprio. Perché per me Cialanoglu a zero, ricordiamolo, a zero è un grande acquisto, cioè a 27 anni l'hai pagato zero e devo sentire, e non è che sia una pippa, non è che è un bidone che prendi dalla serie C, terza categoria. Cioè prendi un giocatore, vero, che per carità non è un top player, non può sostituire Eriksen, sicuramente, però al momento che Eriksen purtroppo, per conseguenze che nessuno, e ripeto, nessuno si aspettava, prendere Cialanoglu come, diciamo, sostituto, o possibile sostituto, beh, a me schifo proprio non fa, sono sincero. È vero che gli diamo 4 milioni e mezzo il primo anno e il secondo anno 5 milioni, ma è anche vero che l'hai pagato zero. Poi, se vogliamo dire che è il sostituto che magari l'Inter, se non aveva tutti questi problemi, poteva prendere Luis Alberto, ovvio, Cialanoglu non è Luis Alberto, Cialanoglu non è Eriksen, ma sicuramente non è una pippa. Questo è chiaro. Poi vi dico anche che si parla addirittura di un possibile ritorno di Keita Baldi. Cioè io Keita sono stato sempre innamorato di Keita, però, boh, che vedevo di? Io ho imparato una cosa. Darmian mi ha insegnato tantissimo, nel senso che io l'anno scorso non ero uno che insultava Darmian, eccetera, a prescindere, ho detto sempre, sarà il campo a parlare. Però ho detto anche, se Darmian deve essere l'acquisto che ci deve portare lo scudetto, la vedo molto dura, e invece mi ha smentito, perché Darmian è stato l'uomo scudetto. Che voglio che se ne dica, ci ha portato 6 punti Matteo Darmian. E' stato l'uomo scudetto. Questa è la verità. Quindi dal fatto che i nomi magari non sono, chissà che... Poi raga, ve lo dico, non vi aspettate i top player all'angolo Kanté, perché non arriveranno mai. Siamo in una situazione, diciamo, difficile, molto difficile. Quindi non andremo mai a prendere un top player del genere. Scordatevelo dalla testa. Purtroppo venderemo Akhimi. E non vi aspettate che se vendiamo Akhimi arriva un terzino destro più forte di Akhimi. Anche perché secondo me, mio modestissimo parere, per il momento come terzino o alla destra, il più forte che c'è adesso è Akhimi. Poi, se vi devo dire la mia, per sostituirlo degnamente sulla fascia destra, io prenderei Lazzari. Sinceramente, a me non farebbe schifo. E non è nemmeno una pippa. Ti vai a indebolire? Sì. Bisogna essere sinceri, perché poi dopo sembra che no, tu... No, è vero. Ti vai a indebolire. Poi dopo hai sempre il campo a parlare. Ma tu? Purtroppo Ericsson è successo quello che è successo. Prendi Cialanoglu? Ti vai a indebolire? Sì. Perché Ericsson per me è più forte di Cialanoglu. Vendi Akhimi, che sicuramente è l'unico che secondo me partirà. Comunque, vendi Akhimi. Ha un prezzo alto, comunque. Vendi Akhimi. Prendi Lazzari. Ti sei indebolito? Sì. Perché Akhimi è più forte di Lazzari. Però, raga, purtroppo bisogna entrare nell'ottica che tutte le società italiane, europee, mondiali, hanno dei problemi. La nostra particolarmente, bisogna dire che questo è anche particolarmente la nostra dei problemi, visto che il fatto dei soldi che non possono essere portati dalla Cina in Italia. Non mi chiedete cose di economia perché non ci capisco niente. Magari andatevi a informare, ma è una cosa del genere. Quindi è così. Purtroppo sì. Era ovvio che la squadra un po' si sarebbe indebolita. Ma se, comunque, hai speso 0 per Cianoglu, 0 per Kordaz, lasciamo stare. Non è che sia l'acquisto che ti fa cambiare la stagione. Sta lì, è ritornata a casa, buonanotte al secchio. Ovvio, e ci aspettiamo tutti quel qualcosa di più. Ma per me, il mio pensiero, che se riusciamo a riconfermare tutti, tranne purtroppo, ragazzi, Akhimi, perché è l'unico che ha un grosso mercato e bisogna accettarlo, allora mi starebbe anche bene riconfermare tutti e prendere qualche acquisto in qua e in là. Mi andrebbe benissimo. Benissimo. Questo è quanto. Mi andrebbe benissimo, ripeto, perché so la situazione societaria che abbiamo. È ovvio. Se mi avessero detto pre-Covid, che andavamo a spendere 20 milioni per Cianoglu, gli avrei dato un cazzotto in testa. Adesso un Cianoglu a 0, a 27 anni, io, sinceramente, me lo tengo stretto. Comunque, fatevi sapere voi cosa pensate nei commenti. Facciate un piaccio nei commenti, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto. Scusatemi per l'assenza nel video scorso dell'Italia, ma se mi seguite su Instagram avete visto che ero al mare, poi ho messo un sacco di storie, che sembrava di stare allo stadio con tutti gli ultras a cantare. Forza Italia. E niente, vi saluto, ci vediamo sabato, a meno che non esca fuori qualche altro nome, sia a casa acquisto o da parte dell'Inter. E niente, ci vediamo sabato per il postpartia di Italia-Austria. Amala. 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 Grazie.